Ci vediamo tra poco. Vibra e Maurizio Carucci, Fedez, Tananai e Mara Settey e tanti altri. RTL 125 Power Eats estate 2022. Mercoledì 31 agosto dalle 20 e 45. Live su Sky Uno. Se ami Kinder Bueno, preparati alla rivoluzione. Fresca come un nuovo gelato mai provato. Potente come l'intensità della nocciola. Emozionante come un'esperienza unica. Una rivoluzione che ti conquisterà ancora e ancora. Nuovi gelati Kinder Bueno. La rivoluzione sa di bueno. Without a woman or a girl. Ho gli occhi in fiamme. Hai provato Iso Marocchi? È acqua di mare delle cinque terre. Ma è salata. Come le tue lacrime. Con una salinità simile a quella delle lacrime, Iso Marocchi dona un naturale sollievo dal bruciore. Iso Marocchi. Lacrime di benessere. Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme. Polvere di luna, sbuffo di vulcani, gocce di nuvola. C'è una magia che ti sorprende sempre. Ta-da! È quella di Kinder Karts. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Karts. La biscomagia di Kinder. Ho deciso di nominare un nuovo erede. Sono io. I draghi. Sono un potere che nessuno dovrebbe sottovalutare. La guerra è alle porte. Le spade verranno sguainate. Adesso ti vedono per quella che sei. House of the Dragon. In esclusiva. Da lunedì alle 3 del mattino su Sky Atlantic e On Demand. Eccoci. Bentornati. Bentornati. Diolta.